La Gran Bretagna ha perso durante la pandemia più di 17.500 negozi, una media di 48 al giorno secondo i dati del Local Data Company. Dall'analisi sono stati esclusi gli shops chiusi temporaneamente ma che potrebbero comunque non riaprire una volta allentate le misure in primavera. I negozi non essenziali dovrebbero riaprire il 12 aprile in Inghilterra e Galles due settimane più tardi in Scozia, ma la concorrenza delle vendite online è diventata schiacciante durante la pandemia e l'ultimo lockdown potrebbe essere stato fatale. Molte catene hanno già annunciato le chiusure definitive di tanti punti vendita con il conseguente licenziamento di parecchi dipendenti. La vera situazione verrà fuori tra qualche mese quando le aziende avranno ristrutturato molti dipartimenti e si sapranno i reali danni all'economia e all'occupazione. Se anche tu vuoi fare pubblicità su TeleLondra, scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!